E' appena finito il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 e subito terzo Racing Podcast sul mio canale sportivo, Racing Podcast a caldo visto che il Gran Premio l'ho appena finito di vedere pochi minuti fa un Gran Premio che ancora una volta aveva come adito principale il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel circuito che ha già ospitato il Mondiale MotoGP con anche in quel caso la terza gala stagionale e ospiterà anche quest'anno il Mondiale Superbike i due contendenti al titolo, ovvero Hamilton e Verstappen, arrivavano a questo appuntamento del Mondiale Formula 1 con una vittoria a testa, con una differenza di un punto soltanto per Lewis Hamilton alla fine triunferà il pilota inglese centrando la 97esima vittoria in carriera era un Hamilton che comunque ha dimostrato in questo caso di meritare la vittoria dopo che aveva vinto in Bahrain in una vittoria in realtà non meritata anzi a farne le spese è Verstappen che un po' paga una strategia abbastanza orrenda in realtà della Red Bull a mio modo di vedere e un po' paga un strapotere di Hamilton che dal ventesimo giro in poi effettivamente ha fatto quello che voleva in una gara dove in realtà da dire c'è abbastanza poco il momento saliente è appunto quello che accade al giro numero 20 questo è il frame finale del sorpasso decisivo Bottas che per una volta è tornato ad alti livelli aveva ottenuto la pole position addirittura in qualificazione bruciando Hamilton di uno nulla negando tra l'altro Hamilton la centesima pole di carriera è primo dopo una gara condotta appunto in testa ma Hamilton dopo aver superato Verstappen che era riuscito a compiere un sorpasso in curva 1 sullo stesso Hamilton riesce prima appunto a superare l'olandese poi ad avvicinarsi a Valtteri Bottas un sorpasso all'esterno chiuso in curva 1 un sorpasso veramente incredibile e molto bello dal ventesimo giro poi in realtà non succederà assolutamente niente e Hamilton di fatto arriverà vincitore al traguardo celebrando ancora una volta la vittoria nel circuito dove effettivamente aveva vinto anche lo scorso anno per lui è la novantasettesima vittoria della carriera e suona ancora una volta God Save The Queen Verstappen in ogni caso limita comunque i danni perché finisce comunque in seconda posizione e terzo finisce quella Valtteri Bottas che un po' si riscatta parzialmente dalle due gare che l'avevano visto non protagonista in particolare Imola e alla fine finisce terzo aggiudicandosi la quarta posizione del campionato ma il leitmotiv del campionato del mondo che si è riproposto ovviamente in questa gara è appunto il duello Hamilton-Verstappen un duello che effettivamente sarà spero protagonista per tutto il campionato del mondo un duello che al secondo round appunto su tre vede vincitore Lewis Hamilton che sale a quota 69 punti in classifica dietro c'è Verstappen a 61 già tutti gli altri a partire da Landon Norris sono after the music con appunto l'inglese della McLaren terzo in classifica 37 punti con Valtteri Bottas che fa po' di giro veloce con 32 piccolo appunto sul giro veloce dato a Bottas è stato un giro veloce confezionato al giro numero 65 in una tattica della Red Bull e Mercedes che di fatto hanno mandato i loro piloti in questo caso Bottas e Verstappen a mettere le gomme soft per gli ultimi giorni di gara per fare il giro veloce Bottas lo tiene al giro 65 come dicevo Verstappen lo tiene al giro 66 peccato che Verstappen in quel giro vada effettivamente fuori dal limite della pista e dunque gli venga tolto il giro veloce e venga dunque riassegnato a Valtteri Bottas che dunque aggiunge un punto in una gara che comunque lo ha visto protagonista per una volta in una gara dove obiettivamente il finlandese doveva riscattarsi dopo il disastro di Imola è comunque un campionato molto equilibrato perché appunto Verstappen e Hamilton stanno spartendo in modo alternato i primi e i secondi posti e 8 punti obiettivamente sono assolutamente pochi considerato che siamo soltanto alla terza gara in un campionato che ne vedrà in totale 23 considerato anche l'aggiunta della Turchia al posto del Canada che seguirà il Gran Premio di Baku quello che in realtà appunto va detto e sottolineato nell'analisi di questa gara è la strategia della Red Bull perché effettivamente Verstappen ha effettivamente un po' pagato la strategia del muretto Red Bull perché dopo che appunto c'è stato l'iniziale sorpasso in gara Verstappen è stato anche superato da Valtteri Bottas ed è stato sempre dietro al pilota finlandese una marea di giri a parità dei condizioni Verstappen poi metterà le gomme più dure prima di fermarsi per mettere le gomme più soft per il giro veloce il problema è che se alla fine tu Red Bull vai a mettere le gomme dure che senso ha fermare Verstappen al giro numero 36 quando potevi fermarlo tranquillamente al giro 29 visto che Bottas non lo superava neanche a piangere questo è un punto di domanda che effettivamente la Red Bull dovrà spiegare al pilota olandese una strategia che un pochino effettivamente pecca con l'intelligenza in realtà degli uomini Red Bull che sono sempre stati maestri nel fare strategie diverse dagli altri per scombussolare le carte e qui secondo me era l'occasione per fare una strategia diversa l'hanno fatta effettivamente in realtà quelle della Red Bull una strategia diversa l'hanno fatta col pilota sbagliato ovvero Sergio Perez che comunque finisce quarto ma è un quarto posto molto particolare Perez si ritrova di fatto a fermarsi al 51esimo giro su 66 con le stesse gomme l'obiettivo della Red Bull dichiarato era quello di fare in modo che Perez da secondo pilota rallentasse Hamilton che stava rimontando secondi su secondi al giro per poi sperare che Verstappen rientrasse per la lotta finale negli ultimi giri il problema è che dobbiamo dirlo questo agli uomini Red Bull e gli faccio uno spoiler che potrebbe effettivamente sconvolgere le loro esistenze che Portimao è una pista larga dove le macchine ci passano e riesce a vedere tanti sorpassi soprattutto nell'ultima rettilione è una pista stretta come potrebbe essere Imola come potrebbe essere Monte Carlo in una pista come Imola dove Monte Carlo dove non passa neanche a piangere effettivamente una strategia del genere avrebbe senso in una pista come Portimao dove abbiamo visto che poi Hamilton ha sverniciato Perez manco fosse una Williams o una Haas qualunque effettivamente qualche dubbio sulla strategia di casa Red Bull a me onestamente mi viene è una strategia che comunque non ha pagato certo nonostante questo ambaradano di strategie sbagliate Red Bull limita i danni portando a caso una ottima seconda e quarta posizione certo per i mondiali costruttori è un passo falso perché comunque Mercedes ha fatto primo e terzo però comunque è finalmente un campeonato equilibrato dove però ancora una volta si è visto che Red Bull e Mercedes sono una spanna sopra gli altri e gli altri di fatto se la giocano a partire dalla Ferrari a partire dalla McLaren con l'inserimento di alcune Alpine a volte la Ston Martin a volte l'Alfa Tauri di Gasly insomma dietro è effettivamente una bella lotta è una bella lotta anche davanti specialmente con tre piloti su quattro però tre piloti su quattro appunto che sono Hamilton, Verstappen e Bottas nella maggioranza dei casi danno l'idea di dare veramente la paga agli altri andiamo ad analizzare adesso quella che è la classifica del campionato appunto il podo l'abbiamo già detto con la vittoria di Hamilton secondo Verstappen e terzo Bottas il quarto è appunto l'ho già citato Sergio Perez quinto è il mio Landone Norris che comunque mantiene la terza posizione nel mondiale a discapito di Valtteri Bottas con un vantaggio di 5 punti buona gara per il pilota inglese ancora una volta la migliore delle McLaren sesta posizione è la Ferrari in una gara che in realtà vede la scuderia di Maranello come la quarta forza evidentemente in questa pista e anche del campionato mondiale evidentemente una gara in realtà molto anonima con già delle difficoltà in qualificazione con Sainz che partiva addirittura davanti alle Clerc alla fine delle Clerc rimedia e rimonta solo due posizioni e finisce sesto settimo è Estebono Con con la prima delle due Alpine che comunque si dimostrano effettivamente qui per il loro vero potenziale ovvero una macchina che potrebbe arrivare in zona punti con costanza ottava posizione per l'altra Alpine di Fernando Alonso che comunque a 39 anni fa la sua seconda gara in zona punti consecutiva nona posizione per Daniel Ricciardo che fa una rimonta interessante partiva a sedicesimo in qualificazione e l'australiano finisce nono chiude la zona punti quindi decima posizione per Pierre Gasly con quell'Alfa Tauri che dicevo appunto all'inizio poteva effettivamente inserirsi ogni tanto qui Gasly fa una gara meno interessante rispetto a Emola ma comunque punti importanti per il francese è fuori dei punti l'altra Ferrari che evidentemente non ne aveva Carlos Sainz ha deluso ha fatto un po' la gara del gambero partiva addirittura davanti all'Eclerc in qualificazione quinto addirittura e alla fine finisce undicesimo prestazione abbastanza anonima per quanto riguarda la sua gara una gara che appunto in generale non ha visto grandi scossoni se non il ritiro di Raikkonen al secondo giro ma perché oramai ci deve essere per tradizione in ogni gara un ritiro che causa una safety car e sto giro è toccato al povero Kimi Raikkonen che di fatto ha tamponato Giovinazzi per perdere poi la sua l'anteriore la gara poi dopo il sorpasso di Hamilton non ha detto assolutamente niente tanto è vero che la regente nazionale addirittura si è soffermata su sorpassi incredibili lotte molto intense tra piloti che non contano ovvero Sunoda ovvero lo stesso George Russell Mick Schumacher Latifi insomma pilotoni che appunto giustamente vengono doppiati e completano di fatto la classifica una gara che comunque è stata interessante per lo spunto della strategia sbagliata in modo di vedere della Red Bull e qui aspetto le vostre opinioni vedendo se siete o meno d'accordo con me assegniamo dunque per concludere questo breve Racing Podcast i premi della giornata il driver del giorno non può che essere in questo caso Lewis Hamilton perché arriva la 97esima vittoria in carriera ma ci arriva rimontando cosa che obiettivamente non è molto frequente al piloti inglesi considerato che effettivamente spesso Hamilton corre da solo facendo pole giro veloce triplette vittorie eccetera qui ha dovuto di fatto inventarsi letteralmente un gran bel sorpasso su Bottas e dunque conquistare una vittoria che comunque lo fa rimanere in testa al campionato seppur di pochissimi punti la delusione del giorno è appunto Carlos Sainz perché appunto la Ferrari ha dimostrato di essere una macchina competitiva in ogni caso per posizioni che comunque possono valere la zona punti con costanze fare la gara del Gambo con una macchina che comunque è migliore dell'anno scorso onestamente non è proprio una prestazione pazzesca diciamo così per il pilota spagnolo parentesi sul nostro portacolori Antonio Giovinazzi ancora una volta manca la zona punti e di fatto conferma il risultato del Bahrain con un dodicesimo posto Giovinazzi manca sempre quel quid in più per la zona punti peccato perché insomma a sto giro ancora una volta la sfortuna si è accanita sul povero pilota italiano appunto coinvolto nel tamponamento con il suo combattimento di squadra Kimi Ray Conan ritirato al giro numero 2 vedremo se già in Spagna prossimo appuntamento della stagione ci saranno punti per il pilota italiano in Spagna peraltro ci sarà anche l'esordio della nuova Formula 3 che appunto alterna i weekend con la Formula 2 tre gare in programma e dunque anche in quel caso arriverà il Racing Podcast ovviamente parlandone dopo la Formula 1 che dunque già la settimana prossima sarà di scena al circuito di Barcellona fatemi sapere cosa ne pensate dunque di questo Racing Podcast se siete d'accordo o meno con le mie analisi e le mie opinioni il saluto da parte di Meteor Torgaard ci vediamo martedì alle 19 con il post gara della MotoGP che ha corso in contemporanea la Formula 1